Il nostro ospite è Marco Tonion, direttore generale di Galileo Network, una delle società che oggi sono più attive nell'offrire servizi al mondo dei confidi. Ecco, con lei vorrei parlare di questo, di quanto è informatizzato questo mondo e quali sono le criticità oggi proprio dell'informatica, perché l'informatica è un problema per tantissimi. Le aziende spendono anche milioni e milioni di euro nell'informatica. Come è messo oggi proprio questo rapporto informatica-confidi? Quali sono le aree anche di miglioramento o le criticità che lei vede? Prego. Direi che oggi, dopo un periodo di assestamento, avviamento e sviluppo dei sistemi dei confidi, i confidi sono entrati in una fase matura. L'informatica da essere uno strumento per l'adempimento degli obblighi normativi, segnaletici e regolamentari è divenuto uno strumento per lo sviluppo del business. Oggi sempre più i confidi ci chiedono nuove operatività, nuove funzionalità per supportarli in questo passaggio da mero erogatore di garanzia a soggetto e voluto operatore a 360 gradi del mercato finanziario. La nostra opportunità è proprio quella di riuscire a supportarli in questo percorso in maniera sicura, rispettando quelle che sono le normative, le leggi e facendogli, dandogli tutta la possibilità di crescere anche dimensionalmente e territorialmente. Noi oggi Galileo Network dà automazione a 45 soggetti vigilati, a 120 soggetti non vigilati, è l'emanazione di un centro servizi bancario per cui noi riusciamo a fare del colloquio Banca Confidi la nostra leva strategica per garantire i confidi nella sua evoluzione verso la dimensione di intermediario vigilato e voluto.